Venerdì! Non ho molto altro da dire, anzi, ecco un cagnolino che saltella, che ci farà dimenticare che tra qualcosa come un quarto d'ora sarà di nuovo lunedì mattina. Non so come tutto questo sia possibile, ma è così che funziona. Quindi, dai, stanno tutti quanti parlando innanzitutto di questa storia dell'olio tunisino. Passiamoci sopra, veloci, che non è una roba veramente interessante, ma sento la necessità di ricordare a tutti che è un mondo pieno di cazzate. Una rete piena di cazzate, sono tutti pieni di cazzate. Sono molto negativo questo venerdì. Permettiamo un attimo l'immagine del cagnolino. Ecco qui. Ok. Pronti. Il Parlamento Europeo ha approvato una misura che permetterà alla Tunisia, che si trova qui, fuori dall'Unione Europea, di importare 35.000 tonnellate in più all'anno di olio d'oliva senza dazzi. È importante questo punto, senza dazzi. Quando delle merci arrivano da fuori, l'Unione Europea, si applicano delle tasse particolari. Qualche volta si fanno degli accordi per favore del commercio, che è molto importante per tutti. Chiunque abbia giocato ad Age of Empires lo sa benissimo e, alle volte, questi accordi prevedono il sollevamento dei dazzi. Uno di questi accordi è già in essere. La Tunisia può portare in Unione Europea, non in tutta Italia, ma in tutti i paesi dell'Unione, un massimo di 56,7 tonnellate di olio d'oliva senza dazzi. È già così. Con la misura approvata dal Parlamento Europeo, questa cifra sale a 90.000 tonnellate l'anno per il 2016, quest'anno e il 2017 il prossimo. E poi basta. Si ritorna alla situazione precedente. Perché? Perché la Tunisia, uno dei pochi governi stabili e alleati nella zona del Nord Africa, è stata scossa da due attacchi terroristici nel 2016, quello al Museo del Bardo e quello al resort turistico di Susa, che hanno messo in crisi il settore turistico, che è poi l'industria trainante del paese. Perché se c'è uno dell'Isis come tuo vicino di ombrellone, un po' scazza e, per quello per quello, me ne vado in Sardegna, che al massimo come vicino di ombrellone ho un sardo che mi guarda storto. Capisco la difficoltà, ma sono scelte. Sarti. Per aiutare la Tunisia e non lasciarlo nella crisi, quindi più facile, preda del terrorismo, che ci manca solo che dobbiamo fare pure un intervento militare in Tunisia, l'Unione Europea ha deciso di facilitare l'ingresso di merci che, ripetiamo, potevano entrare comunque. Anche prima non venivano bloccate, non era vietato. Si sono solo alleggeriti un pochino i dazzi. Questa cosa causa l'idea di cui produce l'olio in Italia, ovviamente, perché sono tutti sempre concordi nel aiutare il prossimo, sinché sul loro orticello non dovesse passare una nuvola che faccia un po' di ombra. In quel caso cambia tutto, ci rubano il lavoro, ognuna casa propria, tutti fuori e tutto magna magna e tutto il resto. È la classica storia del Notting My Backyard, perché, come diceva George Carlin, a nessuno frega niente se non del proprio abita. Io non so se si tratti di una buona manovra o di una cattiva manovra, come ogni cosa dipende da come la si guarda. Immagino bisogna comunque tenere presente tre cose. La prima, le economie funzionano molto meglio quando vige il libero mercato. Tu metti il tuo prodotto, io metto il mio prodotto e i consumatori decidono. Magari a me l'olio fatto dai produttori locali piace di più, che è poi una verità. Io vado a comprarlo in un paese più buono ma più costoso. Magari a un altro frega cazzi e vuole comprarsi l'olio di inferiore qualità perché ha pochi soldi, perché preferisce spendere in altro, è libero di farlo, è un libero mercato. Quando arriva qualcuno a dirti, eh no, devi comprare questo e non puoi comprare quello, il mercato non sta funzionando bene e c'è qualcuno che potenzialmente può approfittarsene. In tanti dicono, eh sì vabbè ma loro esportano da paesi dove la mano d'opera costa meno, ed è vero. Ma lo facciamo anche noi quando esportiamo in Germania o nel nord Europa o negli Stati Uniti. Tutti questi posti hanno un lavoro che costa più del nostro e se loro improvvisamente bloccassero le importazioni non ci sarebbe più mercato né made in Italy e le nazioni non possono vivere soltanto di economia interna. Non è così che funziona. Inoltre, non potremo più comprare né iPhone né telefoni Samsung. Saremo tutti quanti costretti a girare con in tasca il telefono di Facchinetti e vogliamo lasciare un mondo ai nostri figli dove siamo obbligati a usare il telefono di Facchinetti? Che immagino in realtà usi pezzi prodotti in Cina peraltro, ma ignoriamo questo punto che se no la battuta non funziona. Punto 2, queste 90.000 tonnellate rappresentano una frazione ridicola dell'olio che viene prodotto in Italia, circa 400.000 tonnellate, in Grecia circa 300.000 tonnellate e in Spagna che è il maggior prodotto europeo con un milione di tonnellate di olio l'anno. E queste merci già circolano, si trovano ovunque, basta andare al supermercato e guardare e lo si vede, quindi subito. Punto 3, il made in Italy non è veramente a rischio perché non è che mo' arriva l'olio dalla Tunisia con la bandierina tricolore sopra. Al massimo arriva con questa bandierina qui, voi lo comprereste l'olio con questa bandierina qui, non ne ho idea. Il punto è che non è che il made in Italy è a rischio perché al massimo trovate l'olio con scritto Fatto in Italia con il 20% di olive che arrivano dal bla 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 bla. Si è sempre fatta questa roba qui, non sta cambiando niente, basta leggerle le etichette. Quindi rimane solo la questione, è una giusta manovra o è ingiusta nei confronti di Italia, Spagna e Grecia che sono i grandi produttori europei, è un buon modo di aiutare la Tunisia. Almeno così discutiamo sui fatti, non sulle cazzate digitando le nostre impressioni nei commenti con le nostre tastiere prodotte da facchinetti in Marvel. Immaginate tipo schiacci un tasto e partono le musichette, le frasi tipo Ho un sogno, voglio realizzare una cosa che nessuno ha mai realizzato, una tastiera con i tasti, non lo so. Adinolfi, che è un salto fantastico, è stato soggetto di una campagna virale a Torino fatta da qualcuno che ha pensato di forzare i pannelli della società che gestisce questo tipo di pubblicità e mettere i suoi. Odinolfi. Ovviamente il noto... boh, cos'è Adinolfi? Un blogger? Non ho la minima idea. Ah, è il direttore della Croce, vabbè. Comunque, Adinolfi si è risentito, ha detto che sicuramente il suo movimento per la famiglia ha toccato un nervo scoperto, eccetera. Anche se in realtà sono sicuro che è semplicemente contento per la pubblicità e l'intera peserie è stata soltanto fatta for the lulz. Negli Stati Uniti, invece, accade questo, una rissa su un aereo che non è tanto la cosa interessante quanto ciò che ha causato la rissa tra le signore. E il fatto che alcune di queste utilizzassero un boombox per far sentire la musica a tutti i membri dell'aereo. Siamo negli anni Ottanta, di nuovo improvvisamente, perché per chi di voi sia nato agli sgozzoli del Novecento, che è un modo figo di dire nel 1990, o ancora peggio per i giovinastri del nuovo millennio, questo è un boombox. Questo, che probabilmente è l'aggeggio utilizzato sull'aereo, non è un boombox. Punto 2, quanto devi essere ossessionato da te stesso non solo per ascoltare la musica senza cuffie, su un mezzo pubblico, dal telefono, che davvero già ti esclude dalle persone che salverei durante una possibile invasione zombie, ma per pensare che sia una buona idea farlo su un aereo, che è praticamente una prigione, le quali sbarre sono fastidio, sospiri e malsopportazione, con una roba che serve ad amplificare la tua musica di merda. Nel frattempo, 50 Cent si è presentato di nuovo dal giudice, che gli ha chiesto come mai hai detto di essere diventato povero e continui a pubblicare foto come questa su Instagram? E la risposta del rapper, più o meno parafrasata, è stata sono soldi finti. Non è che sto dicendo di essere povero perché non voglio pagare i 7 milioni di dollari con i quali mi avete condannato a resarcire una donna, della quale ho pubblicato il sextape online. È che è tutta finzione, non sono veri soldi. Il che, teniamo un attimo i piedi a terra, è una cosa di merda, ovviamente. Il rapper non ha le mie simpatie per quello che ha fatto, è un crimine, ed è giusto che sia un crimine, ed è giusto che paghi. Di certo però è il master troll. Poco dopo essere comparso di fronte al giudice ha infatti pubblicato questa foto nella quale dice di essere povero, contento di tutto l'amore del quale si è sentito circondato nell'aula e di poter condividere con il proprio pubblico soltanto qualche M&M. Mi chiedo soltanto se avrà ancora così tanto da ridere quando dovrà sborsargli davvero quei 7 milioni di dollari e dovranno essere soldi veri. Per ora questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi e per questa settimana. Grazie per aver guardato specialmente se aveste guardato tutte le puntate di questa settimana che ho fatto con le mie manine con tanto amore. Così. Questi sono Klaus e Lena, sono il nostro alfiere e la nostra regina di oggi. Mi mandano la foto direttamente dal carnevale di Venezia e non ho idea di che faccia abbiano. Potrebbero essere bellissimi, probabilmente lo sono, ma potrebbero anche non esserlo. Potrebbero non essere nemmeno delle persone. Dietro a quelle maschere potrebbero esserci, non so, degli spaventapasseri. Sono molto stanco. Ci vediamo lunedì. Buon weekend.